Sai che c'è di nuovo? Qui da Iper non vendiamo i dolci. Qui facciamo i dolci. E poi te li vendiamo pure. Ti pensate che impasti tutto ogni mattina? Proprio io, con queste mani qua. Tiro la sfoglia, mi riempio di farina, curo ogni dettaglio. In tutti i nostri punti vendita trovi un vero laboratorio con veri pasticceri che sfornano dolci nuovi ogni giorno. Perché da Iper trovi tutto quello che vuoi. Anche una pasticceria. Oggi trovi la colomba. L'abbiamo fatta noi. E te la vendiamo pure. A 13,90 euro, Iper la grande I. Differenti per mille motivi. Grazie.